Riesce tanto ma sembra molle nelle conclusioni e proprio nel suo miglior momento viene castigata da Bonanni che al 34esimo fa partire un destro micidiale che batte Siciliano. In effetti si tratta del primo vero tiro in porta del Palermo fino a quel momento. 1-0 per il padrone di casa in una gara piena di errori nei fondamentali.